La questione non si dirime facilmente perché i sostenitori delle due tesi che oggi vedono contrapposti favorevoli e contrari alle vaccinazioni non arretrano di fronte alle loro certezze. E il fiume in piena di notizie poco attendibili dal punto di vista scientifico che arriva principalmente dal web non aiuta le famiglie ad orientarsi nella scelta più giusta. Per questo motivo l'obiettivo dell'incontro promosso a Biceglie tra pediatri e genitori nella scuola dell'infanzia Gesù Fanciullo non è quello di convincere gli scettici ma di informare sui rischi che si corrono nell'abbassare la guardia verso ciò che oggi non è più visibile. Perché, spiegano gli esperti, malattie pericolose che si credevano debellate danni potrebbero tornare e provocare danni sicuramente superiori a quelli di qualsiasi effetto collaterale connesso alle vaccinazioni. Le famiglie sono disorientate, sono terrorizzate da questo movimento mediatico amplificato dai tempi di internet perché non sanno che fare, perché cominciano a fidarsi poco della scienza e invece andare dietro a queste orde che io dico di sciamani, per cui le malattie non esistono, le malattie sono scomparse, non circolano più. È chiaro, fino a quando saranno gli altri a vaccinare i loro figli, per cui gli agenti patogeni non circolano, il mio figlio è al sicuro, ma questa è una forma di egoismo. Nel 2014 le vaccinazioni contro patologie considerate eradicate, come il morbillo, la poliomilite, l'epatite B e la pertosse, sono scese al di sotto del tasso di sicurezza del 95% della popolazione. La soglia, ritenuta indispensabile dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per garantire l'immunità anche per chi non è vaccinato. Un calo riferibile anche alla crescita di un fronte resistente di genitori e obiettori che contestano la reale efficacia dei vaccini. È necessario, quindi, spiega la dottoressa Rana, che è anche referente di un'associazione di pediatri, riconquistare fiducia nell'operato dei medici e dell'informazione scientifica. Che consiglio possiamo dare ad una mamma? Difidarsi del consiglio del pediatra, perché abbiamo studiato tanti anni, non ci possono spazzare via tutta la scienza e la cultura che abbiamo accumulato. E le prove scientifiche sull'efficacia, solo magari tacciandoci di venduti, noi non siamo venduti a niente, a nessuno, non abbiamo una sponsorizzazione per questo. Io lo faccio solo per passione, per amore.